Diana and Chula Wow! Dati enormi! Ciao! Ciao! Wow! 3! Iniziamo! Wow! Guarda! Cos'è questo? Idea! Uno! Sì! Forza, 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 Oliver! Aha! Due! L'ultimo rimasto! Tre! Ottimo lavoro! Sono il prossimo! Cinque! Gomma! Legno! Schiuma! Plastica! Carta? Chissà cosa c'è dentro! Controlliamo! Aeroplano di schiuma! Sì! Cosa? Palla di carta! Forza! Interessante! Ora... Una paperella di gomma! E' una volta! Cosa? Oh! Oh! Manca qualcosa! Calma! E'? E'! E' un'auto di legno! Wow! È facile! Bottiglia di plastica! Fatto! Ora tocca a me! Yuhuu! Sei! Wow! Gustoso! Chissà come sono i frutti all'interno! Iniziamo! Anguria! Che c'è adesso? Oh! Melograno! Lo adoro! Oh! Arancia! Kiwi! Banana! Davvero fantastico! E ora l'ultimo! Ananas! Finito! Forza! Quattro! Wow! Chup chup! Brrrr! Oh! Idea! Blu! Sì! Rosso! Giallo! Bene! Blu! Rosso! Ops! No, no, no! Aha! Oliver! È giusto! Ora tocca a me! Ok! Due! Guardate! Un dente è sano! E l'altro è malato! Oh! Dobbiamo fare una cernita di cibo buono e cibo cattivo! Oh! La mela è un frutto! La frutta è buona! Buono! Anche la carota è salutare! Potatine fritte! Molto male! L'hamburger non va bene! La fragola è salutare! Mi piace la fragola! Aha! Oh, dog! No, non va bene! Broccoli! Bene! La pizza non è sana! Oh, no! L'arancia è buona! Sì! Ciambelle e biscotti hanno lo zucchero! Quindi sono cattivi! Oh! Devi mangiare sano e lavarti sempre i denti! E ora tocca a me! Oh! Uno! Mocca! Che cosa sono? Devo scegliere il cestino giusto! Ci sono! La bocca fa il latte! Questo! Iniziamo! Grazie, mia cara! Super! Super! Ciao! 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 Ciao!